amare ad ogni età un dossier sulla vita sentimentale in età anziana ciao ben ritrovati oggi vi presentiamo il nostro ultimo lavoro un dossier sulla sessualità e sentimenti a 60 70 80 anni e oltre la vita sentimentale in età anziana è molto più dinamica vivace di quello che siamo abituati a pensare insieme affronteremo molti aspetti relativi all'argomento matrimoni social dating divorzi silver porn separazioni sessualità lo sapevate che il numero di nuovi matrimoni in italia è in calo da molti anni eppure i matrimoni degli over 50 degli over 60 sono in crescita tra il 2008 e il 2015 i matrimoni di uomini over 60 sono aumentati del 41,9 per cento quelli di donne over 60 addirittura del 60 virgola 9 per cento le coppie sono più eterogenee rispetto al passato vecchi tabù come la differenza di età non sono più un problema grazie alla diffusione di internet i più anziani stanno vivendo una vera e propria emancipazione tecnologica sempre più persone cercano un partner in rete i siti di incontro sono tantissimi e alcuni sono dedicati esclusivamente agli anziani queste community permettono di stringere amicizie e trovare nuovi partner un altro settore in espansione grazie alla diffusione di internet è quello della pornografia nel 2014 porn hub uno dei principali siti pornografici trasmetteva 5000 terabyte di streaming al giorno contro i soli 600 di facebook all'interno del dossier potrete trovare anche schede di libri e film per approfondire il tema dell'affettività da diversi punti di vista buona lettura venite a trovarci sul nostro sito www.centrostudi.50piu.it www.centrostudi.com.info www.centrostudi.com.info